Lei è Mercedes, aveva 35 anni, la sua foto è sulle prime pagine dei giornali tedeschi e lui è suo padre. Non ce la fa, lascia il quotidiano sulla panchina e prova a parlare della figlia. È venuta qui per mangiare una pizza, bere una coca ed è stata ammazzata, è una tragedia, dice. Mi ha felice, ho chiamato una casa di città. Mercedes è una delle dieci persone uccise a Danau da Tobias Rathien, 43enne neonazista, morto suicida. Stando alle ultime ricostruzioni, quando le forze dell'ordine hanno fatto irruzione in casa del killer, oltre alla madre, anche lei morta, c'era il padre, ma nei suoi confronti non è stata formulata alcuna imputazione. Il capo dell'anticrimine federale ha fatto sapere che il killer era affetto da una grave malattia psichica, c'è da domandarsi allora in che modo uno psicopatico sia riuscito a ottenere il porto d'armi. Gli inquirenti non escludono che a darglielo possa essere stato un poliziotto, anche lui neonazista, arrestato una settimana fa. Secondo la procura federale, inoltre Rathien, lo scorso novembre aveva presentato una denuncia penale contro una sconosciuta organizzazione di agenti segreti capace, diceva il terrorista, di penetrare nei cervelli delle persone e pilotare gli accadimenti globali. Ma poiché nella denuncia non c'erano esternazioni razziste o di estrema destra, è stato deciso di non aprire un'inchiesta. Mentre si definiscono i contorni della strage, la Germania vive ore di preoccupazione. La minaccia a causa dell'estrema destra, del razzismo e dell'antisemitismo è molto alta, afferma il ministro dell'interno, Seehofer, che annuncia anche l'incremento di polizia e controlli negli aeroporti e davanti alle moschee. Ai familiari delle vittime la vicinanza del Papa, che in un telegramma di cordoglio firmato dal cardinal Parolinzi, dice profondamente colpito dalla violenza che ha causato la morte di innocenti.